Grazie a tutti. Siamo alla puntata 46 e stiamo occupandoci in queste ultime catechesi di un tema abbastanza importante per quanto riguarda la vita nella divina volontà che è lo sgomberare il campo ad alcuni possibili equivoci e fraintendimenti. Queste due puntate si chiamano Cosa non è la divina volontà? Abbiamo fatto un lungo percorso sia diciamo così sistematico, teorico e anche supportato da alcune testimonianze testuali di passi salienti e significativi del libro di cielo. Adesso era molto importante, mi era stato chiesto, ci avevo pensato ed è quanto meno opportuno ripeto sgombrare il campo ad alcuni possibili fraintendimenti ed equivoci. Abbiamo visto la volta scorsa che avevo elencato dieci punti e ne abbiamo approfonditi i primi cinque, quindi oggi speriamo di concludere l'argomento con l'approfondimento degli altri cinque. Tanto per riprendere un po' il filo del discorso, la volta scorsa abbiamo approfondito questi primi cinque punti. Uno che è la divina volontà, non è una spiritualità fra le tante, ricorderete qui non si tratta di creare una nuova tendenza, nuovi gruppi, e semplicemente un nuovo movimento, un nuovo ordine ecclesiale, una nuova scuola di spiritualità, no. Quindi questa è la vita di Gesù e della Madonna, quindi è una vita che è offerta ed è resa accessibile e possibile a chi lo desidera. Una vita di cielo, una vita divina che può iniziare sulla terra e che di per sé è compatibile con qualunque tipo di spiritualità, stato di vita, eccetera, e che si possa immaginare. L'importante ovviamente è che si tratti di uno stato di vita e di una forma, diciamo così, di vivere che sia certamente benedetta dal Signore, quindi che sia una cosa di per sé stessa buona. La seconda cosa è che non si tratta di una scorciatoia per la santità, perché la divina volontà porta ai vertici massimi possibili della santità che si può vivere su questa terra, ma è evidente che non rappresenta, come dire, un bypassamento facilone, ecco, di quella che è la santità ordinaria, classica, che prevede ascesi, impegno e sforzo. Qui l'ascesi, impegno e sforzo viene convogliato su degli aspetti ben precisi. Abbiamo fatto l'esempio la volta scorsa, no? Cioè, non si tratta, cioè, non è scombattere frontalmente con la mia volontà contro un mio vizio, quindi comincia a sforzarmi, cosa che ordinariamente si deve fare, a non arrabbiarmi. Ecco, e quindi questo costa sforzi, sacrifici, una faccia, una volta ci riesco, 10 no. Ma so che se vivo fuso con la divina volontà, la passione dell'ira perderà vigore dentro di me. Quindi, anziché concentrerò lo sforzo ascetico su stiamo attenti a quando ci arrabbiamo, ma ne mordiamoci la lingua, lo concentrerò su fare gli atti della divina volontà, sul mantenere la fusione con la divina volontà, sul mantenere un cuore che pulsi in un tiamo, in un interrotto verso il Signore, perché se questo c'è, sarà enormemente più facile, ecco. Non soltanto controllare gli impediti dell'ira, ma gradualmente impedire a loro che sorgano, ecco. Quindi questo non è una santità che è una scorciatoia, perché si tratta semplicemente di polarizzare le energie su un obiettivo diverso e assai più fruttuoso, capite? Ecco. Terzo, non è una soluzione magica, quindi le magie abbiamo visto che nella vita interiore non esistono, anche Luisa Piccarreta, come ben sappiamo, ha fatto un cammino, d'accordo, per arrivare alla divina volontà, quindi a vivere in stato di fusione e ricevendo anche il dono mistico, d'accordo, perché abbiamo visto che nella divina volontà si ripresenta, come dire, analogicamente, un itinerario analogo a quello dell'unione con Dio ordinari, che passa per delle fasi, appunto, ordinari, quindi percorribili, con lo silo della grazia di Dio, e poi le fasi mistiche che dipendono semplicemente dall'azione che Dio fa in noi senza di noi e che sono il vertice, d'accordo, quelle che portano all'unione con Dio. Anche nel cammino della divina volontà si riproduce questa dinamica, ecco, per cui nessuno si faccia, insomma, l'idea errata che schiocca le dita, fa un atto preventivo al giorno e toglie il medico di torno, nel senso che è tutto finito. Si piacerebbe a tutti che fosse così, piacerebbe anche a me, ma non è così. Ecco, sarebbe una cosa ridicola. Poi abbiamo visto che non è neanche una spiritualità d'elite che legittimi atteggiamenti alteri e superbi, ecco, cosa che può accadere sia a livello individuale, sia a livello, ahimè, collettivo. Io non ho contatti personali con i cosiddetti gruppi della divina volontà, non ho cenacoli della divina volontà, non presiedono, non faccio nulla di questo qui, no? Ecco, però certamente trattandosi di cose grosse e un'intelligenza che il Signore illumina lo capisce che qui sono in ballo delle cose grosse, bisogna stare molto attenti al demone della superbia che immediatamente porta fuori della divina volontà proprio senza nessun dubbio. anzi, non c'è niente che porta lontano dalla divina volontà quanto il vizio che c'è comune a Lucifero. Quindi, cioè, mi raccomando, insomma, stia alla larga dai nostri cuori e dai nostri pensieri, altrimenti la divina volontà ce la sogniamo la notte. Se non chiudiamo radicalmente con questo orribile e odioso vizio, abbiamo visto anche, attenzione, facendo anche riferimento all'interpretazione, purtroppo di gruppi mi hanno riferito, in sostanza, credo, in Sud America o robe di questo genere, che svalvolano e che, travisando alcuni passi, tra l'altro bellissimi, sulla divina volontà che vanno rettamente interpretati, vanno a trarne conclusioni, soprattutto sballate e assolutamente inaccettabili all'interno della vita della Chiesa e se sono inaccettabili all'interno della vita della Chiesa sono sbagliate, d'accordo? Perché questo, cioè, come dire, la vita nella divina volontà, d'accordo? È vita di Gesù e di Maria, Gesù e Maria vivono nella Chiesa, d'accordo? La Chiesa è roba loro, non è roba nostra, ecco perché dobbiamo amare tanto la Chiesa, dobbiamo lavorare per la Chiesa, dobbiamo impegnarci per la Chiesa, pregare per la Chiesa e vivere in comunione con la Chiesa, tutto quello che vogliamo, ma sempre sapendo che, in ultima analisi, la Chiesa non è la mia, non è mia la Chiesa. Non sono io il salvatore della Chiesa o anche il distruttore della Chiesa. La Chiesa è di Gesù e di Maria. Per cui, certamente, ciascuno è chiamato nella Chiesa a fare la sua parte, fatta bene, ciascuno è proposto nella serenità, nella pace e nella gioia. Ecco, ma la Chiesa è di Gesù e di Maria, è della Santissima Trinità. Ecco, per cui, certamente la Divina Volontà si può portare assolutamente fuori dalla Chiesa. Io ho fatto una battuta, tra l'altro copiandola al mio caro amico Frappio, bisogna dare anche i diritti del copyright, credo, che siamo più devoti alla Chiesa che a Gesù e a Maria. È un'espressione che usa lui, anche spesso. Mi sembra, insomma, che la dica così, non vorrei adesso poi aver avuto qualche vuoto di memoria. Però è un'espressione chiaramente provocatoria, perché non è che sia di te odio alla Chiesa che a Gesù e a Maria. Però è una provocazione per dire che mentre di Gesù e di Maria posso farmi un'idea bislacca io. Siccome la Chiesa è una cosa molto concreta, l'appartenenza della Chiesa è una cosa molto concreta, che passa per strumenti molto concreti, quindi ci sono parrocchie molto concrete, diocesi molto concrete, papi molto concreti, cardinali molto concreti, quindi buoncili molto concreti, documenti del Magistero molto concreti. Quindi qui non ci possiamo sbagliare se stiamo o non stiamo in comunione con la Chiesa, mentre siccome Gesù e Maria, se qualcuno lo conosce personalmente, che ne ha avuto esperienza diretta, ha beato lui, ma non abbiamo un'esperienza mediata ordinariamente, quindi è tuttora dimostrare che io sto in contratto con Gesù e Maria reali e non con l'immagine che io mi sono fatto di Gesù e di Maria. Capite? Ecco perché la Chiesa svolge questa, tra l'altro, straordinaria funzione di tenerci sempre ancorati a ciò che è sicuro, o se preferiamo l'espressione di mantenersi sempre con i piedi ben per terra, ecco, onde non andare a svalvolare e a fare voli pindarici che sono del tutto non autorizzati dalla Santissima Trinità. Detto questo, passiamo adesso ai cinque ultimi punti, che come la volta scorsa li rielenchiamo e li approfondiamo, volgendo poi verso il termine, perché ecco la prossima catechesi avverto che sarà una bomba atomica, ecco, perché tra l'altro avrò anche modo di rettificare alcune indicazioni che anche in qualche catechesi ho dato, evidentemente quando ancora non conoscevo questo patrimonio. È chiaro che se uno, avete visto, no? Come funziona nell'ambito della medicina? Se uno non conosce, per esempio, che esiste la tecarterapia, io dico queste cose perché ho dei problemini abbastanza rilevanti alle mie povere ginocchia, se uno non sa che esiste quella cosa, c'è male alle ginocchia, non lo so, fai un po' di ginnastica, oppure fai un po' di elettrostimolazioni, ma se uno va in una clinica dove gli fanno la tecarterapia e vede gli effetti che fa, è chiaro che se un amico dice che hai fatto con le ginocchia, lascia perdere l'elettrostimolazione, vada a fare la tecarterapia, perché? Perché è più grande e più efficace, quindi nella prossima catechesi non voglio adesso fare nessun'altra anticipazione, ecco, farò riferimento ad una realtà di questo genere. Comunque, veniamo agli ultimi cinque punti del cosa, non è la divina volontà. La divina volontà non è, abbiamo detto già la volta scorsa, acquietismo, punto numero sei, non è gnosticismo, punto numero sette, otto, non legittima nessuna presa di distanza dai mezzi di santificazione comune, d'accordo? In particolare, oserei aggiungere, meno che mai, dalla Santissima Umanità di Gesù e dal cuore immaculato e dalla Santissima Umanità di Maria. Meno che mai, proprio, ecco, d'accordo, meno che mai. Nove, non è vero che sia incomprensibile o impossibile da praticarsi. Questo non è vero, anche se adesso, quando svilupperemo il punto, qualche cosa dobbiamo certamente farla notare. e, ancora, non è un, virgolette, niente di nuovo sotto il sole. No. Anche se è radicalmente fondata nella Sacra Scrittura, perché il fondamento ultimo della Divina Volontà è, sono le prime pagine del Libro della Genesi, d'accordo? Perché la vita nella Divina Volontà è la vita che Dio aveva pensato per l'uomo in quanto tale e che aveva dotato, di cui aveva dotato Adamo ed Eva. È stata vissuta dalla Madonna e da Gesù, che sono personaggi biblici insomma abbastanza rilevanti, d'accordo? Quindi, è radicalmente fondata sulla Sacra Scrittura la tradizione e anche il Magistero, quantomeno in un suo, in una sua dimensione fondante e fondamentale che rimane evidentemente nella vita nella Divina Volontà. Perché se abbiamo detto tante volte che la vita nella Divina Volontà non è solo fare la Divina Volontà, evidentissimo però che in continuazione noi dobbiamo imparare sempre di più a dilatare gli orizzonti e gli ambiti e chiedermi in ogni momento dico sono sicuro che questa cosa che sto facendo è Divina Volontà o no? Sto uscendo dalla Divina Volontà oppure no? Questo lo sapevano già, d'accordo? L'hanno sempre insegnato tutti, d'accordo? tradizione con la T maiuscola vuol dire non il tradizionalismo anacronistico e retrogrado a priori ma la tradizione con la T maiuscola e il Magistero della Chiesa che sono le tre fonti della liberazione certamente sono un'autostrada diciamo così che porta la Divina Volontà però bisogna anche dire che negli scritti ci sono delle informazioni delle indicazioni che fanno fare un reale passo in avanti ecco sia nella conoscenza che nella possibilità del reale compimento del disegno salvifico integrale sull'umanità e sulla storia poi lo approfondiremo un anticipo nella Bibbia c'è scritto che Adamo e Eva stavano in uno stato di giustizia originale ma non c'è scritto in cosa consisteva non c'è scritto in maniera esplicita capite cioè alcune cose nella Bibbia sono scritte in maniera non schiara per esempio nella Bibbia non c'è scritto che la Madonna è immacurata non c'è scritto ma nella Bibbia non c'è manco scritto che esiste la Santissima Trinità il nome Trinità non c'è nella Bibbia d'accordo il nome Trinità l'ha inventato l'ha inventato l'ha proposto come formulazione per rivolgersi alle tre persone di Vina Tertulliano d'accordo nella patristica occidentale capito quindi e allora quindi sì certamente non è fuori ma non è neanche vabbè una tra le tante come se niente fosse perché a volte l'approccio che sia che anche quello che ho avuto io nel mio primo contatto di qualche anno addietro è che sarà mai stata divina volontà lo sappiamo che dobbiamo fare la divina volontà per andare in paradiso e no e no no non è esattamente così è così ma non è esattamente così allora prendiamolo una volta numero uno che sarebbe poi il numero sei la divina volontà non è quietismo si legge e ho intrasentito a volte insomma in qualche voce un pochino critica che la divina volontà legittimerebbe una sorta di quietismo no assolutamente il quietismo è una corrente ovviamente ereticale condannata dal magistero della chiesa periodo storico è tra il 1600 e il 1700 adesso ho un gap di memoria più 1700 credo che 1600 e lo dice il nome stesso no il quietismo è quella dottrina per cui sarebbe escluso da parte dell'uomo l'impegno lo sforzo ascetico per crescere perché Dio farebbe tutto quanto l'unica cosa che dobbiamo fare è stare tranquilli e lasciare che la grazia di Dio operi in noi quindi questo vocabolario che è come dire è proprio di almeno una parte degli scritti perché moltissimo dobbiamo lasciare che Dio operi in noi non è però da intendersi in chiave passiva o sostitutiva Dio fa in me senza di me no perché tutto quanto il lavoro continuo che c'è anche se svolto in maniera soave dolce serena pacifica dell'anima consiste nel mantenersi in questo stato continuo di unione e diffusione con la divina volontà quando uno fa un giro nella divina volontà non è affatto quieto d'accordo cioè se uno intende con quietismo il cioè che uno è quietista se non opera come dire laboriosamente quindi materialmente quindi facendo qualcosa di concreto ma questo qui non ha niente a che fare insomma con la vita ecclesiale assolutamente assolutamente certamente noi sappiamo che quindi il quietista per esempio è uno che il giro non lo fa cioè per mettersi a fare un giro nella divina volontà non è che il giro ti viene così ti viene spontaneo il giro lo devi fare lo devi e c'è un lavoro interiore d'accordo cioè in una persona che vive nella divina volontà non so che non c'è nessun quietismo ma c'è un lavorio un interrotto continuo cioè capite tu non vedi niente al di fuori ma tu parli con la persona tu tratti con la persona e tu non sai che quella persona dentro di sé sta facendo gli atti di amore sta ponendosi con la divina volontà magari sta mettendo il ti amo sul tuo cuore mentre tu stai parlando con lei non le sai queste cose ma è chiaro che se una persona non ci fa attenzione non si impegna non ci pensa non succede assolutamente nulla cioè non è che questa cosa qui tu te ne resti a panza all'aria stai pensando di affari tuoi e in automatico entri nel mondo della divina volontà con una come dire operazione che compie Dio senza che tu faccia nulla assolutamente cioè capite bisogna mettersi d'accordo e questo molto ben comprendelo specialmente per noi che abbiamo la fede che operare per noi non significa operare esternamente ma se uno guarda la vita di Gesù e di Maria che cosa hanno fatto capite o anche la vita di una persona claustrale immaginate una persona claustrale che chiusa dentro la sua celletta fa un esercizio penitenziale col permesso del superiore e lo offre al signor il corno non lo sa nessuno d'accordo sta operando è certo che sta operando anche materialmente perché per fare un esercizio penitenziale devi operare anche materialmente ma il valore di quell'atto cioè l'operatività di quell'atto è spirituale cioè il signore lo prende quell'atto e lo applica in riparazione di qualche peccato di qualcuno o di altre cose o per la convertire qualche pecatore che la persona è interessata non lo sa non sa chi sia quello che nella divina volontà c'è con molta cautela è invece quel concetto di operatività che può purtroppo albergare anche noi cristiani figli di Dio anche noi predi anche noi vescovi che comporta una operatività esterna e materiale produttiva di risultati immediati e percepibili subito un esempio cioè se io vedo una persona che deve convertirsi ci sono tanti modi per intercettarsi per interfacciarsi con questa persona io posso andarli a fare post 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 per esempio fare una predica in pubblico dove tra le cose che dico dico qualcosa senza che nessuno lo sappia per toccare quella persona questo è un modo delicato oppure posso prenderla da parte posso farne un discorsetto magari soft oppure posso fare un discorsetto un po' più impegnato oppure posso fare un rimprovero diretto d'accordo? oppure posso fare un giro quindi comincio non soltanto a pregare per la conversione ma comincio a mettere ti amo nel cuore nella mente nella volontà di questa persona supplicando Dio girando in questo modo nel divino volere quindi operando efficacemente nelle sue facoltà pur nel rispetto della sua libertà che venga il regno del Fiat sulla terra quindi l'operatività della vita nel divino volere è principalmente del secondo tipo ma non esclude quella del primo tipo cioè io che sono un prete sto facendo adesso una catechesi non è che mi rinchiudo dentro la camera e sto a fare gli atti come faceva Luisa dalla mattina alla sera senza più fare una catechesi senza fare un'omelia senza fare l'incontro di preghiera questa roba da matti questa qui è chiaro però che le cose che faccio che sono le stesse di prima quindi quelle che come dire costituiscono i doveri di stato di un prete sono fatti o almeno speriamo mi sforzo cerco di farle nel divino volere quindi in una maniera che non si può capire dall'esterno interiormente differente molto differente molto differente e certamente con uno stile a mio avviso c'è anche uno stile che caratterizza le persone che vivono nel divino volere molto facilmente percepibile perché è uno stile pacifico è uno stile abbandonato nella volontà di Dio quindi non è che sta quieto e non opera opera è come ma opera tranquillamente cioè se io mi trovo in una realtà per esempio pastorale da prete dove vedo che purtroppo c'è una situazione veramente messa male cioè dove le persone stanno proprio lontane e quello che si può concretamente punto fare è ben poco perché non ti ascoltano non ti sentono in chiesa non ci vanno e non si sfora e poi questa iniziativa la boccia l'altra non ci vengono l'altra non c'è cosa allora un prete che vive nella divina volontà sta tranquillo fa quello che può continua a fare tranquillo come faceva Tom Puglisi fa pure le prediche ai banchi perché quella è la divina volontà e contemporaneamente fa anche tante altre cose nel segreto nel silenzio per provocare la conversione non soltanto dei suoi come dire parrocchiani contingenti che c'ha davanti ma di tutte e tante le persone a cui il Signore vorrà far arrivare il beneficio degli atti che compie nel divino volere nel nascondimento nel segreto punto e basta questo non è quietismo questa è iperoperatività certamente la vita nella divina volontà è un grandissimo aiuto per uscire da quella tentazione io ho letto ieri quando è stato lo suo avvenimento di questa mattina credo che ieri il Papa abbia fatto visita e c'era anche il Cardinal Vicario di Roma ai preti di Roma giustamente il Vescovo di Roma anzi tutto sicura degli incontri con i preti e c'era un prete che ha fatto una relazione a nome del presbiterio romano e tra le cose che diceva che è una cosa tipica c'era il problema dell'iperattivismo dei preti perché oggi stanno le parrocchie stanno a fare una montagna delle cose la mattina alla sera a fare un sacco di roba a gestire patrimoni due tre quattro parrocchie ma questo iperattivismo questa iperattività non è una cosa buona bisogna aumentarsi ma come facciamo bisogna aumentarsi non si può fare non si può fare perché la vita di un prete non è correre come un pazzo dalla mattina alla sera senza averci neanche un secondo per sé perché un prete deve avere una vita certamente molto impegnata non deve perdere tempo se vuole fare il prete come Dio comanda e deve fare molta attenzione all'uso del tempo che ha non buttandolo non perdere tempo durante la televisione o cose di questo genere non perché sia una cosa negativa ma perché è meglio occuparsi di altro perché se tu il tempo lo usi bene non trovi il tempo per fare tutto anche per fare tante cose ma non troppe certamente la vita nella divina volontà fa comprendere una cosa che chi è chi agisce ed opera in maniera efficace e potente è Dio non siamo noi noi possiamo essere strumenti cooperanti ed efficaci dell'operatività divina tanto quanto sprigioniamo in noi e fuori di noi attraverso i giri la potenza del Fidel Supremo questo sì ma questo non è quietismo questo ripeto è iperoperativismo non iperattivismo è una forma diversa di operare è molto più fruttuosa ho detto tante volte come cambiano le cose quando vedo dei problemi nella chiesa comincio a fare il pazzo comincio a fare le cose le polemiche e mi mettono sul pubblico ludibrio nomi e cognomi di persone che si comporterebbero male laici, preti, cardinali con chiunque sia e comincio a dire no questa è una vergogna non si fa così stiamo andando alla deriva questo è il modo santo benedetto da Dio di operare e lasciamo perdere la divina volontà questo io non ci credo io conosco un altro Dio se questo è il modo santo conosco un altro Dio conosco un'altra Madonna e conosco un altro Gesù Cristo non può essere questo nella divina volontà questa convinzione a mio massissimo avviso viene sempre obbligata d'accordo perché vedi quelle situazioni se uno può a tempo luogo modo opportuno avendone i titoli avendone le possibilità provare a fare qualcosa bene ma la cosa principale da fare non è il fare qualcosa di diretto ma è l'andare a sbancare il cielo perché siano mossi cuori e coscienze questo Gesù insegnava a Luisa e non soltanto con il suo essere vittima anche con il suo essere in continua azione operazione per ridare a Gesù e alla divina volontà tutta la gloria che le creature continuamente non gli donano con benefici che ricadono bene di tutti io voglio proprio vedere se nel mondo ci fossero un gruppo di persone perché veramente non per scherzo non che se ne fanno come dire la moda della divina volontà che tre volte dopo lo stufa pure adesso è un periodo che perdonatemi ci circolano in giro dappertutto a destra e a macchia gruppi qua pagine di qua pagine ufficiale pagine di questo c'è un marasma che non finisce mai per carità viva Dio magari d'accordo però se nel mondo ci fossero veramente delle persone che vivono sul serio avendo ben compreso quello che è la divina volontà ma io penso che altro che si stringono la mano i presidenti della Corea del Nord e della Corea del Sud d'accordo ora c'è l'altro marasma che succede in Iran a Teheran con gli Stati Uniti avanti tranquilli atti giri operazioni divine per risolvere problemi pericolosi dove ci soffia il diavolo bene proseguo se non lo finiamo neanche oggi non è gnosticismo dell'ognosticismo si è parlato anche nella recentissima istruzione che non mi ricordo mai come si chiama emanata recentemente dalla comunicazione dell'ottima della fede controfirmata da Papa Francesco dove si parla di due pericolose resie risorgenti che sono l'ognosticismo e il pelagianesimo che cos'è l'ognosticismo dal termine greco gnosis gnosis significa conoscenza noi sappiamo benissimo da dove comincia la vita nella divina volontà e comenta in noi con le conoscenze capite questo lo dice tante volte Gesù ma come è da intendere perché gli gnostici dicevano dicevano questo gli gnostici antichi dicevano questo qui cioè che la cosa fondamentale è questa è una cosa un pochino massonica tra l'altro per chi conosce un pochino quegli ambienti ci sono delle conoscenze particolari comprensibili e riservate a pochi eretti se tu arrivi a queste forme di illuminazione entri in contatto con la divinità poi tutto il resto ne puoi tranquillamente infischiare tant'è vero che gli gnostici antichi i nicolaiti di cui parla San Giovanni nel libro dell'Avocalisse erano tanto in visi ne parla molto male Gesù in quel testo perché dicevano bene noi abbiamo le conoscenze elitarie e ci dedichiamo a queste cose dello spirito elevate quindi la carne vuoi fare gli atti impuni ma fanno quante te ne pare d'accordo non ti preoccupare tanto la carne non conta niente se lo spirito sta unito in questo modo con queste forme di conoscenze a Dio fai quello che vuoi capite allora le conoscenze che occorre acquisire nel regno del divino volere non sono conoscenze come di ah che bello oggi ho scoperto che la divina volontà si duplica indefinitamente si moltiplica gli atti quindi c'è la proprietà bilocativa generativa adesso sto parlando difficile apposta perché sono i concetti degli ultimi volumi c'è la proprietà bilocativa generativa la madonna ripara tutti quanti gli atti fatti male fatti nel cuore delle persone e qui ah che bello capite ecco cioè non è così cioè attraverso le conoscenze che noi acquisiamo si aprono un orizzonte di vita non sono conoscenze teoriche che rimangono appese lì sono informazioni che servono a ogni volta di più stimolare far crescere far penetrare sempre di più in questo mondo e in questa vita divina non sono teorie d'accordo e come dire voli pindarici miosiologici dove io ah che bella cosa e così quindi ho deliziato la mia smagna di sapere cose nuove cose strane oggi figuriamoci insomma con tutte quante le cose che circolano online insomma non si può ubriacare come meglio crede insomma delle informazioni più strane ma non è assolutamente questo d'accordo sono conoscenze che servono a aprirti gli orizzonti della mente e quindi a stimolare poi come dire non lo studio lo sforzo di comprensione e di traduzione in atto nella vita tua personale di adesione e di risposta alla divina volontà ancora non è legittimato nessuna presa di distanza dai mezzi di santificazione comune d'accordo nessuna non è che siccome Gesù come abbiamo letto negli scritti dice e lo spiega il senso in cui lo dice che vivere nella divina volontà produce un'unione con lui superiore a quella che produce la santa comunione ma numero uno e chi te rassicura che tu sei entrato così tanto nella divina volontà da aver raggiunto con lui un'unione di questo genere punto interrogativo cioè i sacramenti numero uno numero due questo non ti legittima proprio per il fatto che noi che chi viene non è una sorta di superman che ha super parte saldi sopra degli altri ma noi ci si colloca come Maria Santissima all'ultimo posto quindi la Madonna è andata come dire è andata a sottoporsi al bagno di purificazione rituale dopo il parto quando ha avuto un parto virginale cioè non si è mica data la dispensa e la Madonna non aveva bisogno di quella cosa non aveva bisogno di quella cosa capite Gesù andava in sinagoga tutti quanti i sabati non ci bisogna scandalizzarsi Gesù andava in sinagoga senza nessun dubbio tutti i sabati si metteva seduta e si ascoltava la pratica del rabbino ma vi immaginate avevo il figlio di Dio fatto uomo che si ascolta la pratica del rabbino capito e stava lì zitto e buono capito hanno vissuto o no la divina volontà Gesù e Maria certamente e non si sono dispensati perché ancora non era tempo dalle istituzioni religiose dell'ebraismo perché le istituzioni religiose dell'ebraismo sono cessate dopo la redenzione dice Sant'Omaso e con le istituzioni da parte di Gesù dei sacramenti della nuova alleanza soprattutto dopo la crocifissione dopo l'ultima cena dell'eucharistia nuovo cedat ritui dice Sant'Omaso nel tanto mergo un altro antico un documentum nuovo cedat ritui l'antico documento quindi l'antico rito la Pasqua ebraica che stavano celebrando cede il rito cede il passo al sacrificio eucharistico che Gesù ha istituito ma Gesù e Maria erano talmente sottomessi alle istituzioni religiose ripeto che hanno vissuto vita perfettamente cioè Gesù è stato circonciso è stato rappresentato tu Gesù è stato circonciso come tutti gli ebrei ma ci pensiamo mai queste cose qui quindi non è che cioè non solo che non c'è nessuna legittima dispensa o presa di distanza ma che viene la divina volontà è il primo d'accordo il primo il più sollecito il più se io sono sposato e voglio viene la divina volontà non aspetto che mi figlio che mi pia moglie che portare al battesimo ce lo porto subito se lo porto a stante come si faceva un tempo perché? perché sono assolutamente convinto che il peccato originale esiste e ci credo questo parlo ragazzino senza colpa sua è senza manco colpa mia ma per la colpa dei nostri progenitori c'è nato e prima glielo levo è meglio è non è che dico sai ora faccio un giro nella divina volontà ci metto il ti amo nel cuore del mio figlio e lasciamo perdere il battesimo cioè sarebbe una pazzia allo stato puro no? ecco oppure dici sai ma è natina volontà i peccati non si fanno più le passioni non si sentono più i peccati non si fanno forse siamo confermati in grazia il diavolo scappa e allora a che serve la confessione? come a che serve la confessione? ma a te che serve la confessione? la confessione serve come? la confessione serve come? già se tu già se tu hai fatto una cosa d'accordo? già se hai fatto una cosa se tu vuoi fare la confessione dici sai che mi confè? hai fatto un discorso senza prima fonda articolatina volontà? tranquillamente in materia della confessione questa è sicuramente un'imperfezione alla vita nel divino volere non è che si vanno a confessare soltanto cioè la confessione non voglio fare la categoria sulla confessione che non ho già fatto 100.000 insomma su questo argomento la confessione non è soltanto anzi non dovrebbe neanche essere principalmente per un figlio di Dio degno di questo nome fatta per i grossi peccati anche se di per sé il sacramento della confessione è ordinata la remissione dei peccati mortali d'accordo? ma la confessione è ordinata ai peccati mortali uno dovrebbe farne una nella vita due d'accordo? c'è una confessione autentica ecco dopo che c'è una conversione autentica le confessionacce diciamo così non dovrebbero esistere dovrebbero semplicemente esistere confessioni un po' più tranquilli la cosiddetta confessione di devozione dove uno comincia a confessare prima le colpe veniali i peccati di difetti i peccati commessi per l'ignoranza e poi comincia tutte le imperfezioni che sono volesse le confessioni non finirebbero mai sono innumerevoli le negligenze i ritardi in materia di confessione possono essere portati secondo me anche le tentazioni cioè viene un pensiero valordo credo di non avervi consentito quindi mi è passato ma volendogli dare una bella botta dico ho avuto questa tentazione si può dire nessuno non è proibito perché la grazia sacramentale della confessione noi ce l'abbiamo cioè la vita non legittima nessun tipo nessuna forma di dispensa perché ripetiamo che Gesù e Maria non solo che non si sono dati nessun tipo di dispensa di nessun genere ma hanno vissuto peggio e più sacrificati da tutti quanti quindi non solo non c'era nessun tipo di dispensa ma hanno fatto più di tutti gli altri mesi insieme anche dal punto di vista religioso i Vangeli ce lo dicono perché Gesù si è smarrito 12 anni nel Tempio o perché era andato a fare il rito della Bar Mitzvah cioè aveva 12 anni quindi della maggiore età che era un rito ebraico oppure perché sicuramente la famiglia di Nazareth come tutti gli ebrei se lo andava tre volte l'anno via l'asinello e se ne andava a Gerusalemme a fare i tre per le grineggi prescritti per non per ogni più ebreo a Gesù da lei sicuramente al 100% senza nessun dubbio quindi non facciamo pazzia di nessun genere io le dico fortemente queste cose le dico come innamorato della divina volontà e come sacerdote mi raccomando proprio non esistono robe di questo genere in nessuna forma in nessun modo in nessun caso appena si sente dire una minima cosa che fa svalvolare nel senso che fa allontanare dai mezzi di santificazione comune stiamo uscendo dalla divina volontà tra questi mezzi di santificazione comune hai detto fra me c'è sta la preghiera ci sta la preghiera e c'è l'umanità santissima di Gesù di Maria questi strumenti fondamentali di mediazione la vita nella divina volontà è vita in Gesù e Maria cioè la mediazione della loro santissima umanità è assolutamente fondativa la preghiera rimane perché è vero che la divina volontà comporta anche una nuova forma specifica di preghiera che è pregare attraverso i giri come sappiamo comporta anche un nuovo modo di pregare e anche qui un nuovo modo di pregare perdonatemi non significa anche se può essere una cosa positiva come dire anche qui fare io ho sentito non li ho mai visti il breviario della divina volontà quindi una sorta non ho capito cosa sia di ricomposizione dei salmi ma il breviario è quello di santa romana chiesa cattolica d'accordo quel bel libretto verde in quattro volumi o quel bel libretto che mi pare che è rosso monovolume o per chi dice soltanto non lo diverso di quei belli librettini piccoli piccoli che si trovano anche nelle parrocchie i salmi sono quelli cioè non è che crea qualche tipo di preghiera nuova no è semplicemente quando tu preghi la liturgia delle ore ti unisce alla divina volontà e fai la tua salmodia nella divina volontà ma fai la stessa salmodia così come il rosario sì io anche facciamo una veglia di preghiera nella divina volontà ma se uno si connette quando faccio una veglia di preghiera che la chiamiamo nella divina volontà non è che fa cose strane si dice il rosario certamente prima del rosario c'è l'atto di fusione le letture spirituali sono scritte di Luisa ma è una lettura spirituale di fatto con un commento basta ci sono i canti è una cosa normalissima non è una cosa dobbiamo inventarci una cosa nuova che sia nella divina volontà a me io almeno per quanto conosco gli iscritti allo stato attuale non ho mai visto che Gesù abbia chiesto una cosa di questo genere mai quindi si rimane perfettamente il rosario la liturgia delle ore la meditazione chiaramente uno farà certamente io adesso la mia meditazione personale è evidente che è sugli iscritti anche la lettura spirituale è principalmente certo io come prete devo anche continuare a leggere in continuazione ma è chiaro essendo una cosa questa così importante ed essendo anche tanta roba quella che ha scritto Luisa uno deve leggere ci sono le ore della passione che sono certamente una forma così come il più pellegrinaggio nella divina volontà ma le ore della passione e il più pellegrinaggio nella divina volontà se uno ha capito quello che abbiamo detto sono giri le ore della passione è un giro nella passione di nostro Signore Gesù Cristo ed è un giro in senso stretto perché non è soltanto una rievocazione mentale delle sofferenze di Gesù ma è un farsi presente è un parteciparvi è un mettere ti amo nelle mani nei piedi è un riparare è un offrirsi è un mettersi vicino a Gesù per prendere i colpi che prende lui tutte queste cose che si vivono nelle ore della passione e che sono tipiche del girare perché nel divino volere ci si rende presenti a quel momento così come il più pellegrinaggio nella divina volontà che fa dei giri nel fiat creante fa dei giri nella vita terrena di Gesù fa anche lui un piccolo giro nella passione in alcuni atti fatti dalla Madonna in alcuni misteri della vita terrena di Gesù sono giri fondamentalmente quindi non sono cose quindi la forma di preghiera nuova se uno vuole proprio dirla è il giro d'accordo questo sì ma il resto si continua e guai se non si continua la via crucis il rosario il corpus domini cioè la liturgia della chiesa le tradizioni della chiesa le devozioni approvate dalla chiesa le nove tutto rimane tutto uguale d'accordo non si tratta di andare a moltiplicare ulteriormente le cose che si fanno così come altra pazzia dice ah siamo le dina volontà allora siccome ogni atto che faccio è un atto divino io anziché dire rosario mi unisco a la dina volontà e vado a fare una passeggiata tanto sempre un atto divino eterno immenso infinito gli effetti che produce sono comunque così e quindi rosario non lo dico faccio semplicemente una passeggiata nella divina volontà allora evidentemente cioè qualunque persona di buon senso oppure a che serve fare il digiuno o offrire una penitenza tanto se io se il valore dell'atto è infinito eterno immenso io anche se faccio l'occhiolino d'accordo lo unisco alla divina volontà e è come se avessi offerto un digiuno allora capite cioè io dico apposta queste cose per prevenire perché il diavolo come dire inquina le cose migliori non va a inquinare le cose da quattro sordi allora queste obiezioni sono talmente sciocche è chiaro che da un punto di vista oggettivo è chiaro che se io mi fondo con la divina volontà e porto un atto nel divino volere acquisisce certe prerogative divine ma quelle prerogative divine insistono su un atto comunque oggettivo e che ha agli occhi del signore una qualificazione differente d'accordo perché un atto di una preghiera è un atto meritorio è un atto proprio della virtù di religione capito certamente fuso con la divina volontà devo essere felice perché avrà molta più efficacia di una preghiera fatta per conto mio un digiuno fatto nella divina volontà un gesto di mortificazione eci capito vorrà dire che per liberare l'animo da un purgatorio sparo una cosa tanto per dirgli non li so i numeri anziché fare 600 digiuni ne bastano due potrebbe tranquillamente essere una cosa di questo genere ma con i due bisogna farli però d'accordo non è che mi vada a prendere il caffè anziché fare a fare il digiuno perché sto appuso con la divina volontà quindi mi raccomando io dico tutte queste cose ad abundanziam perché se uno dice sa quello che dice capta ogni tanto fai un po' di pick up in giro tra qualche sciocchezza che si sente dire specialmente capite cioè prima di aprire bocca su questi argomenti bisogna un attimo bisogna un attimo bisogna un attimo fare attenzione così passiamo al punto 9 non è vero che la dottrina della divina volontà è incomprensibile o impossibile da praticarsi non è incomprensibile certamente e qui torniamo che prima di parlare uno dovrebbe avere un minimo di cognizione di causa no? cioè i concetti che Gesù affronta le cose che insegna non possono certamente essere comunicati ma non per motivazioni di stranezze elitarie o gnostiche ma semplicemente alcuno non ci arriva cioè io non posso come dire parlare di valore eterno immensa e infinito di un atto se la persona non sa neanche che cos'è un atto umano e non sa neanche non ha avuto la formazione di base per capire che ogni atto che noi compiamo che coinvolge la nostra libertà si qualifica come buono o cattivo e se è buono ci migliora e produce degli effetti davanti a Dio impedratori di impedratori espiatori di accrescimento di grazie e di accrescimento di gloria questa è la morale come dire spicciola d'accordo? quindi se non ci sono delle basi è chiaro che allora io so per certo anche altri insigni sacerdoti che per esempio fanno un po' di scuola di divina volontà è ai loro alle persone che seguono queste cose dico attenzione si prende il catechismo della chiesa cattolica si lega con molta attenzione d'accordo? perché tu è chiaro il catechismo lo devi sapere capito? perché questo è come cioè se tu prendi un bambino un bambino che deve imparare a scrivere Michele poi mette in mano io scusate il torrente di diritto privato che ci capisce un ragazzino ma se tu metti il torrente di diritto privato a un giovane studente che sei diplomato che ha fatto la scuola superiore certamente si deve sforzare ma lo capisce fa l'esame e lo supera d'accordo? certo non è capito cioè qui io dico sempre anche negli scritti del libro di Cello per questo che bisogna leggerli come dire ordinatamente non avere fretta di passare subito capito? perché è come se uno vuole andare all'università senza aver fatto la scuola dell'obbligo l'ho detto durante le catechesi i libri sono un pochino strutturati è un cammino che anche Gesù ha fatto fare a Luisa un po' come se fosse una scuola scuola elementare scuola medie scuola superiori poi c'è l'università poi gli ultimi volumi dal 30 al 36 dal 31 al 36 sono proprio il dottorato di ricerca lì si arriva proprio a vette pazzesche è chiaro che tu non lo capirai quello che dice Gesù nel volume 36 se non hai assimilato bene anche quello che dice nei primissimi volumi che fa riferimento quasi esclusivo il Signore a tutta una serie di principi come fondamenti orientamenti che qualunque maestro di spirito qualunque padre spirituale qualunque persona che voglia insegnare alla santità deve farci riferimento al forza cioè le comunissime situazioni di vizio e virtù parla della fede della speranza della carità e di tante altre questioni io ho già fatto diverse meditazioni sui primi quattro volumi no? quindi è chiaro che queste cose bisogna uno capisce se fa un cammino graduale si lascia portare per mano ma tutti i cammini sono graduali la Madonna sono duecento anni che sta parlando a destra e a manca parlando delle apparizioni riconosciute pensiamo per esempio la Salette la Salette riconosciuta dalla Chiesa se ne può parlare tranquillamente che cosa ha detto la Madonna la Salette ha detto che bisogna fare le preghiere del mattino e della sera ha detto così ha detto che non bisogna bestemmiare e offenderete ha detto che bisogna andare a messa la domenica queste tre cose il messaggio della Salette è questo non ci sono altre cose capite ma la Salette nel 1846 all'Urd vent'anni dopo circa no bisogna di Rosario e bisogna fa venitezza ma prima la Salette dice se uno non ha parata di manco le preghiere del mattino e della sera non è buono manca a dedicargli cinque minuti al giorno al nostro signore ma come fa a più a Rosario e dedicargli che venti minuti che c'ho di nana non lo fa capite quindi c'è una gradualità nella vita cristiana nella vita interiore e c'è una gradualità anche di approccio alla divina volontà e non è affatto vero che è impossibile da praticarsi perché si tratta semplicemente di convogliare le energie interiori anziché sul piano dello scontro frontale secondo la scetica classica della mia volontà contro ciò che si oppone alla divina volontà quindi ai difetti interni alla tentazione al peccato ma si tratta di portare la volontà a vivere in stato abituale di fusione con quella divina perché la vittoria sia già garantita contro questi avversari che siano sgominati a volte gli sarebbero completamente impedito di venire all'attacco perché se avremo la grazia di giungere alla fusione veramente ordinare e continuare con la divina volontà il demonio a noi ci fa arrivederci a Dio non ci può venire vicino sta scritto e io ci credo fermissimamente d'accordo se uno legge la mistica città di Dio di Maria da Greta bellissima la venerabile Maria da Greta quindi non è Pinco Panca che è una delle opere mariane più belle in assoluto lì è fortissima a un certo punto compaiono i conciliamboli i demoni che stavano intorno alla Madonna e cominciano a dire ma chi è questa qua ma questa sembra una donnetta qualunque ma no ci si riesce manca a avvicinarci perché bene ci avviciniamo sentiamo come una forza che ci tiene lontano ma questa ma li farà i peccati non li farà ma dobbiamo studiarcela bene perché che si può fare contro contro ma sta lì sta dentro al Tempio sta a mezzo tutte le altre ecco i dipogli le risate quando 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 il diavolo gli ordisce le persecuzioni da parte delle sue compagnie nel Tempio gliene dicono zacca una sport e la Madonna che è suomide che dice ma scusate amiche mie sono stata cattiva non lo faccio più la prossima volta sarò buona però mi raccomando perdonatemi che se no dovesse essere il caso che la superiore mi fosse uscita al Tempio cioè vedere queste scene fatte dalla Madonna non c'è veramente tanta roba capite quindi il demone che non poteva avvicinarsi gli scatenava contro queste cose qui e figuriamoci si va a scatenare contro quelle là le riempiono di calunni la Madonna si umilia e chiede perdono anche per quello che capite cioè che cosa gli fai a una che viene fusa con la divina volontà gli fai il vento gli fai e infatti la Madonna i peccati non lo fatti mai non lo fatti mai ecco ma già San Luigi Maria Monfort dice che solo se uno vivesse bene la consacrazione totus tus non commetterà peccato rilevante non lo commette è impossibile d'accordo è impossibile è impossibile perché già se stai in stato di fusione ordinaria con la Madonna quindi senza fonderti con la divina volontà quindi senza avere questa forza sovrumana che teriva dall'essere uno con il Fiat Supremo già quello ti cioè non commetterà peccato rilevante quindi non stando in stato di fusione stando tu comunque sempre comunque abbandonato alla tua libertà alla tua volontà che in qualche momento può avere qualche passaggio a vuoto qualche peccatuccio lo puoi fare ma peccati rilevanti no perché se fai peccati rilevanti tu puoi portare tutte le catenelle che te pare ma la consacrazione totus tus non la stai vivendo stai tranquillo 100% perché gli stacola Madonna i peccati non li fa d'accordo? non li fa almeno non i peccati grossi ultimo punto ci siamo con i tempi sì grazie a Dio allora non è un niente di nuovo sotto il sole come accennavo già in serie di introduzione è vero cioè qui stiamo nel cuore cioè la divina volontà quando entrerà bene nella chiesa c'è uno scritto bellissimo l'abbiamo letto cioè di ecclesiasti di sauti intorno a un tavolo tutti entusiasti ma non è per fare l'idolatria di Luisa Piccarreta che è nessuno cioè io sono sicurissimo che lei vorrebbe vorrebbe sentirsi chiamare niente più nessuno qui la cosa bella è la divina volontà e il divino volere d'accordo? che è un patrimonio che è un paradiso per l'uomo cioè una vita felice in questo mondo d'accordo? vissuta bene come Dio vuole che la viviamo d'accordo? bella d'accordo? bella bella e bella ecco allora quando questa cosa sarà conosciuta dalla chiesa sicuramente sarà descritta come una sorta di albero spuntato nel suo splendido giardino perché il giardino della chiesa è bellissimo ma è un albero che ne esprime proprio la quintessenza la ragione d'essere la causa dell'esistenza la chiesa stessa ecco perché la chiesa che avrà il suo perfetto splendore come dice la Lumen Gentium la vedremo soltanto in paradiso la chiesa è nata per cui la chiesa è nata per fondersi con Dio per portare il Signore per stare unita con Lui già da questo mondo e stare nella divina volontà e raggiungere la massima unione possibile che è immaginabile che creatura possa raggiungere col creatore cioè la Madonna è andata al non plus ultra cioè non ci arriva nessuno dove è arrivato la Madonna ma cioè più di quello non si può ma qual è il segreto della Madonna che dal primo istante del suo concepimento ha legato la sua volontà al trono di Dio e ha detto io non la voglio conoscere e conoscerò solo la tua punto allora è chiaro che nella sostanza questa dottrina è radicata già nella Sacra Scrittura nella tradizione nel Magistero e nella vita della Chiesa dei Santi però contiene delle delucidazioni delle chiamiamole rivelazioni che prima io per esempio non mi immaginavo che lo stato di giustizia originale comprendesse questa vita divina diffusione con la divina volontà e che la tragedia più grande anzi gli effetti nefasti del peccato originale devono da questa rottura della volontà ma non quella divina lo sapevo nel senso limitato del concetto di peccato quindi questi non hanno fatto quello che Dio gli aveva detto hanno fatto quello che Dio gli aveva detto di non fare hanno trasgredito hanno disobbedito e quindi hanno perso l'amicizia con Dio ma non immaginavo che avrebbero perso questo dono d'accordo quindi questo dono questa capacità di trasformare tutte le nostre operazioni umane consce inconsce volontaria in atti divini cioè in atti divini significa produttori in continuazione di sorgenti di oceani di grazie in interrotte capite e che ci ritroveremo nell'altro mondo come soli che splendono e che ci daranno una tale colonna di gloria che non possiamo neanche immaginare io questo non lo sapevo io questo non lo sapevo così come non immaginavo neanche lontanamente che un battito di ciglia potesse diventare davanti a Dio un atto eterno e infinito e immenso non lo sapevo d'accordo non me lo immaginavo non lo sapevo non comprendevo la differenza sottile ma importantissima che passa tra il mettermi dinanzi a Dio in situazione come dire tra virgolette di servo cioè di uno che ascolta e che vuole fare quello che tu mi dici e invece stare in una situazione veramente di figlio questo in parte lo sappiamo già perché un battezzato dovrebbe essere figlio di Dio ma figlio vuol dire che la pensa come il padre sta fuso con il pensiero del padre e come dire agevolmente gradevolmente quasi spontanamente fa quello che il padre vuole ma vive la vita stessa del padre perché vive a casa sua e di casa d'accordo e quindi tutte queste cose e le molte altre che abbiamo visto adesso non c'è più ormai tanto tempo sono delle cose che prima non si conosceva almeno Gesù stesso ha detto leggi tutto quello che vuoi vai a vedere tutti i libri dei santi eccetera eccetera e controlla se trovi la stessa cosa in senso ampio sì ma le stesse cose in senso stretto e specifico no altrimenti tutti quanti i 36 volumi di libro di cielo sarebbero aria fritta torniamo al discorso di chi come capitò a me la prima volta che ho entrato in contatto con questi iscritti che dice vabbè ha divina volontà ce la sappiamo tutti quanti che la dobbiamo fare senza divina volontà in paradiso non c'entra nessuno ecco ma non è semplicemente questo quindi non è un niente di nuovo sotto il sole anche se è biblicamente radicata a fondo la radice nella tradizione del magistero anzi fa parte della quinta essenza della vita e della ragione d'essere della chiesa sposa di Cristo ecco e quando sarà ben compresa ben conosciuta ecco noi sappiamo gli iscritti sono già presso la santa sede la congregazione della dottina della fede che già a suo tempo li dichiarò questo dobbiamo ricordarlo aventi nulla di contrario alla fede cattolica dopo che furono rimossi dall'indice ci fu questa dichiarazione esplicita sollecitata ma fatta adesso sono tutti quanti ovviamente al vaglio perché sapete che quando il processo di beatificazione perviene negli uffici della santa sede prima di diventare venerabile cioè da serva di Dio venerabile e quindi la dichiarazione di erocità delle virtuose tu hai lasciato scritto qualcosa qualcosa deve essere valiato d'accordo perché fa parte del tuo essere venerabile il fatto che è attestato che tu non abbia mai detto o scritto nulla di contrario a ciò che la chiesa insegna perché altrimenti venerabile tanto non ci sei siccome si tratta di tantissima roba tra l'altro di materiale insomma pervenuto anche non sempre in forma perfetta ci vorrà del tempo ecco ma sicuramente questa è una cosa che sta a cuore all'altissimo per cui l'altissimo farà in modo che per quanto il diavolo faccia il diavolo a quattro abbiamo visto con questi dieci punti attenzione non riuscirà a mio avviso a fermare questo divino progetto forse qualche bastoncino tra le ruote il nostro signore gli darà il permesso di metterlo ma non lo può frenare perché se questa è una cosa che Dio ha decretato come sembra di capire bene dagli scritti se c'è un decreto di Dio non ci stanno santi perché se Dio si mette in testa una cosa non lo ferma nessuno cioè se una cosa è volontà di Dio non decretata le creature possono frustrarla Dio lascia la libertà si tratta di volontà permissiva tutto quello che vogliamo ma se una cosa è decretata quella cosa si compie è come un'incarnazione che era decretata quella cosa si compie d'accordo si compie senza violare nessuna libertà tra l'altro questo bisogna fare una telefonata al Padre Eterno e chiedergli come fa d'accordo ma quella cosa si compie noi possiamo ben credere che si compie ora la cosa importante non è che si compie in sé ecco chi sta seguendo ascoltando queste catechesi la cosa importante è che si compie in te e in me e questo dipende anche da quanto ci crediamo e da quanto ci investiamo e da quanto ci lavoriamo appuntamento ragazzi della prossima settimana la mia benedizione Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti